Central Death Note Ok, perché? Perché... Il primo nome C'era scritto Attaccato da un orso E noi abbiamo sentito Tu l'hai visto Dimmi il secondo Il secondo non c'è O meglio, c'è l'alene Il terzo? Cosa è già qua? Il vestito Il vestito la macchina Sotto un lampione E la mia macchina è chiuduta Bam, è vero C'è giusto una croce Sotto al lampione Spento Raga, sono... Conta quanti sono? Conta quanti sono? Conta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto No Dieci Undici Undici C'è un morto parolino Cosa? Ecco perché ci sono i lumini? No Oppure le undici Siamo allora Siamo al sesto Due Tre Quattro Eh infatti Cinque Voglio sapere cosa c'entra i capelli Sei Infatti c'è una donna C'è una donna Uccisa? L'abbiamo tradotto Rapinatore 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 Vero Vero Mi ricordo che c'era quello del rapinatore Ioana è una donna Ioana Ioana sì Ioana è un'amica Si chiama anche così Ioana angelescu Ce li hai Prendiamo la black Proviamo a vedere se qua c'è Ioana angelescu Noi vogliamo parlare con Ioana angelescu Ma si è capito? Ha detto qualcosa ma non ho capito Io ho capito una cosa angosciata Vai Al sesto Veramente Io non so però È da riscoltare Mi sembra che addirittura la luce dietro abbia fatto un vuoto Sì quello si lo sta facendo Lo sto riprendendo Anche i fari Anche i fari Ci sta prendendo un'energia pazzesca Ioana sei tu? Sì Sì Ioana sei Sei stata uccisa? Un demone Ha detto Io ho un'ansia Non sembra che debba arrivare qualcuno Che debba arrivare qualcuno Ah bravo Lo segui Attenta Attenta a cosa? Guarda L'aggiucia L'aggiu Ascoltami Questo libro Questo libro C'entra Con la strada che stiamo percorrendo? Demonio Demonio Brava Soffre 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 Chi soffre? Il demonio? Il demonio Due Soffre demonio due Ioana Noi adesso proseguiamo Morte Certa No 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 raga No 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 Cosa succede? C'è moriamo noi? L'undicesimo manca L'undicesimo vuoto Ponte Ma è una undicimiglia Verso la morte? Sì Sì Intanto ha ciucciato Ha ciucciato la luce È una undicimiglia È una undicimiglia Che va verso la morte Sì Sì Bene Però cosa fai? Dobbiamo però chiuderla per forza Non possiamo stare qua Non possiamo stare qua Non possiamo stare qua nel mezzo Ah no 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 Infatti Ma che vada Andiamo all'inferno Volevi andarci? Non è colpa mia No ragazzi Non possiamo stare qui No Vedi che Ioana era qua Vedi che Ioana era qua Era qua Quindi adesso dobbiamo andare avanti E raggiungeremo Pavel Poi ci sarà Damiani Vlad No Vlad era prima Era prima E da lì Andrei Adina E poi Noi Non scherziamo di me Quindi sappiamo anche che cosa potrebbe succederci Mi dici com'è morto? È vero È vero bro Te lo dico subito Non c'è scritto Bene Bene quindi 7-8 sarà un incognito Sì Il 9 sapremo Sì Incidente in moto Se mi vedo arrivare una moto io te lo dico Vado buono fuori di testa Non sento che è la mia ora Però Dicono che queste cose si sentono Ma io non mi sento che è la mia ora Vai 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 Paffaculo vai Fiamo sta cosa E' rossa sangue proprio La intravedo un pezzettino però Porca vacca Io so solo che questa strada qua Non so veramente C'è di colpo Non Ma è caldo Allucinante Settimo miglio Manca pochissimo Non so com'è morto quello lì Settimo Settimo Miglio Ditemi se non sembriamo finiti in un'altra dimensione Ok Non so c'è qualcosa di surreale Anche solo il prima Qualche macchina è passata Adesso è un botto che non passa prima la macchina Ma c'è solo questa strada Non so mi sembra tutto strano Brutto Io non so Non mi piace Cos'è qua un bosco pure Sì Sì Sei dentro Ma non mi piace proprio nulla Zero 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 Me manca l'aria raga Ottimi Per rendere un po' di aria Tossino Buttamela dietro Stiamo andando verso l'ottavo miglio L'ottavo miglio Vedi Guarda la luna Porca vacca La vedi o no? Ok si la vedo Io trovo tutto surreale Manca poco l'ottavo miglio Mamma mia Porca vacca Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Hai visto che c'erano anche lì i lumini? Sì Sì Ok 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 Stiamo andando verso il nono Siamo in mezzo a luna Paro io dall'uno Dal primo miglio Mi accorgo che sono in mezzo a luna No 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 Io sto Io sto Avendo delle sensazioni strane Qua però è più surreale Non è ancora passata la macchina Credetemi Non è ancora passata una macchina C'è solo questa di strada È surreale raga Stiamo andando verso il nono Sì Muovo Presagio Queste cavole di... Giusto Che quelle segneranno il chilometro Poco dopo Poco dopo c'è il nono miglio Stavo però pensando la stessa cosa Io nono miglio mi fermo Perché? Perché dove c'è scritto Capita sempre qualcosa Non mi piace Non ci vado così Tra l'allero Tra l'allero Nono miglio Tra poco Io mi fermo Te lo dico No, 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 no No, no, no Ok Praticamente qua dall'albero Perché c'è una riga? Che riga? C'è una riga anche sul... Sulla strada Sì È vero A me piace Raga Guarda lì Guarda lì Paul Cos'è quella roba lì? Guardano lì È il lumino È il lumino No, no, no Infatti È il lumino Sì, sì È il lumino È il lumino È il lumino Dove c'è la riga? Dove c'è la riga? Dove c'è la riga? No, no Un secondo Un secondo Devo rifiatare Perché so che succede qualcosa So che succede qualcosa So che succede qualcosa È morto In moto Comunque c'è stato un incidente in moto Ok Controlli dappertutto per favore Si muore Ok Stai per succedere Stai per succedere Sì Sì No, no Te lo giuro Te lo giuro Mi sto cagando addosso Perché superare questo nono miglio Non mi piace Sta per succedere Lo so È anche vero Che non mi posso stare qua Alla sanata Scusa Cioè Sto impazzendo Ok Non ci sono moto No No Perfetto Non ci sono moto Silenzio Sentiamo rumori di moto No No Non c'è niente No Allora vado Allora Prendo coraggio Prendo coraggio e vado Cos'era Cos'era? Che botta Che botta Io lo sapevo Io lo sapevo Io lo sapevo Che botta! Io lo sapevo! Che botta! Io lo sapevo! Io lo sapevo! Stai calma, Tampo, stai calma! Stai calma, stai calma! Ti prendo il vento in questo uomo! Mi sono sviluppato i denti, sì! Che botta! Che botta! Mi sono cagata addosso! Mi sono veramente cagata addosso! E' una botta! Solo che la cosa che mi preoccupa di più è che sta succedendo tutto quello che stiamo... Di nuovo le luci! L'evento che inizia a far così! Sì! Sta succedendo qualcosa anche di strano! Sta accadendo tutto quello che abbiamo previsto! Cosa vuol dire? Nel senso che vedi, ci aspettavamo qualcosa, è successo! E tranne l'undicesima! Quindi è un mega prank! Non lo so! La morte ci ha detto! La morte si muove! Guarda! E' un sistema di passaggio! Da pure strattori nella macchina! Di nuovo pilone! Eh sì perché siamo quasi a dieci 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 Non c'è scritto niente Un po' d'aria ti prego Mamma mia quanto mi sento ripetitivo ma non mi piace Lì proprio non c'è scritto neanche il nome No Spero solo che non sia il nostro Ci siamo quasi Quanto manca? È quasi poco 300 metri Filone Quindi vuol dire che poco dopo l'undicesimo Manca davvero Ok ci siamo Cosa? Eh nel senso che è lì ma Siamo di nuovo le solite Non è che io ho tanta voglia di proprio Ma non per mattine di fare strada Mi piace Ci piace Un secondo fanta lo giuro perché non Praticamente è lì Lì davanti a noi C'è Lì Io non vedo niente Appena ho puntato la torcia ho dato due storciate e poi è sparito Io vedo un lumino Cosa Non lo so Era una sagoma nera Era una sagoma nera dietro il lumino Una sagoma nera Una sagoma nera vi giuro L'ho filmata L'ho filmata raga l'ho filmata sono sicuro 100% Sei sicuro non era il fesso del vetro? No non è un'allucinazione No ho il finestrino giù È la morte Cosa è una morte? Una morte Una morte Sì 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 non è bella Sì sì non è bella Qua era Qua? Qua dietro Qua? Dove siamo noi adesso? Sì Attaccato al lumino No raga No raga Si può passare un 11 miglia piedi? No No Non penso che sia la nostra morte raga dai E allora siamo di nuovo puntacapo E allora ci sarà un significato come l'abbiamo trovato prima Tengo se è successo qualcosa All'undicesimo No io se ci sono i nostri momi Andarà meglio Vado ancora di te Porca miseria Porca miseria Porca miseria Porca miseria Non mi piace Non mi piace Non mi piace Cosa? Cosa? Ma secondo me non era vuoto Sì era vuoto Sì era vuoto Completamente vuoto No Ma cosa stai dicendo? Adelina Albu Adelina Albu Adelina Albu Ma chi è Adelina Albu? Chi è? Era vuoto? Non lo so Ma controlla bene per favore Il tu è no Il tu era vuoto Non è vuoto Non è vuoto Ma Ma chi è adesso Adelina Albu? Non lo so Ma chi è Adelina Albu? Ma scusatemi Ma dai ma guarda che state dando i numeri No 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 Ci stava andando fuori dai fogli No Cosa? Cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma come? E' sparita E' sparita Ma come è possibile? Ma raga ma c'avete le visioni No 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 Ma c'avete le visioni No ma l'ho filmato Cazzo l'ho filmato Che c'era il nome adesso non c'è più C'era il nome C'era il nome Non c'è più Non c'è più Non c'è più Qua Qua A me stanno fuori di testa Scusate Scusate Se aveva ragione Non so Tu aveva ragione la Black Era la morte questa Quella che hai filmato tu era la morte Era lo Shinigami Lo Shinigami? Se tutto è collegato al Death Note Questo era lo Shinigami Ma scusa ma lo Shinigami può morire? Se lo Shinigami era qua Lo Shinigami Lo Shinigami è morto Lo Shinigami può morire? Si può morire Si può morire Come? In teoria è come se fosse una penitenza Quando anziché togliere una vita Ne dona un'altra Ho donato la vita alla 2 Ho donato la vita alla 2 Ho donato la vita alla 2 Oh porca madre Ho donato la vita alla 2 Paolo Morti tranne la 2 Paolo Cosa? Ce l'ha detto Ce l'ha detto Ce l'ha detto la zica Cosa c'è? Gioana Morte Soffre 2 Ce l'aveva detto Ce l'aveva detto Non avevamo capito Non avevamo capito Non avevamo capito raga Oh porca barna Ma possiamo confudere la 11 miglia? Tecnicamente Si Non era la nostra morte Era la morte dello Shinigami Ma che trip è? L'11 miglia incastrata dentro la morte di Shinigami Ma cosa cavolo sta succedendo? Concludiamo la 11 miglia Concludiamo la 11 miglia Finiamola 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 Comunque Vai Finiamola 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 Comunque Siamo salvi? Siamo salvi Ciao